Nel mio gruppo di loro c'era un toscano e questo lavora perché era lì picco e pala e sto capò continua a picchiarlo e allora il toscano dice ma senti io questo qui gli do una badirata nella testa perché continua a picchiare io dice stai calmo stai zitto bisogna subire se te ti rivolgi al capo non solo ti ammazzano te ci ammazzano anche noi insomma questo qui e i toscani sono questo qui in certo momento si è rivoltato gli ha dato una badirata nella testa arriviamo alla sera nel lager c'era l'impiccagioni l'hanno impiccato la han tirato fuori tutti gli interpreti delle nazioni spagnolo francese ungherese c'erloacco russo eccetera dicendo cosa ha fatto questo questo si è rivoltato a un capo e non ha lavorato e questo alla fine che farà io 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 Grazie a tutti.